Siamo nella saggezza delle persone che a livello locale si rinsevisca e ci sia il doveroso accoglimento di un ricorso che è fatto nell'interesse del PD e della città di Napoli. Sai che anche la Valenti ha presentato il ricorso? Vuol dire che ha cambiato linea, mi fa piacere e mi auguro che i suoi rappresentanti nel comitato che deve esaminare il mio ricorso, dicono che bisogna farlo con serietà, con il tempo necessario, quindi l'opposto di quello che è stato detto la volta scorsa e mi auguro che approvino la richiesta che io faccio. Per quello che riguarda il ricorso che ha presentato è la conferma che evidentemente diverse cose non sono andate e per quello che riguarda me si vada avanti senza guardare in faccia a nessuno. E' semplice, no? Io so che non è stato in questo palazzo, non sarebbe un filmista di autonomia. No, sopra si bussa, si bussa sopra. Grazie a te. Grazie a tutti